L'informazione di Italia 2 TV dedicata alle elezioni amministrative 2014 continua ad arricchirsi con nuovi spazi. Parte infatti ufficialmente questa sera la trasmissione di approfondimento politico di Italia 2 TV Countdown, lo spazio elettorale riservato ai candidati a sindaco e alle liste in corsa per le elezioni amministrative 2014 del prossimo 25 maggio. Countdown vale a dire conto alla rovescia è un format a cura della redazione giornalistica di Vallo News e di Italia 2 TV che rispetta la legge sulla par condicio con l'obiettivo di fornire un servizio informativo ai tanti telespettatori e di dare un'opportunità alle liste in corsa in maniera completamente gratuita per far conoscere i loro programmi elettorali. Seguendo in modo imparziale l'ordine alfabetico ogni rappresentante di lista che sia un candidato sindaco o un candidato come consigliere comunale avrà a disposizione 10 minuti per illustrare il proprio programma elettorale e presentare anche i componenti della lista. Saranno inoltre concessi ad ogni candidato 5 minuti per eventuali repliche. Countdown andrà in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì in prima serata alle ore 21 ed in replica alle ore 15 del giorno dopo. Ospiti della prima puntata saranno i candidati sindaco del comune di Auletta.